Sotto gli occhi di tutti questo sistema non funziona. Può essere migliorato, deve essere migliorato. Ben venga la distribuzione a tutta la popolazione, sono concordi con la regione, ma va fatta nella maniera adeguata. In Marimma è caos mascherine. Molte farmacie sono costrette ad affiggere cartelli sulle vetrine per informare i cittadini che i DPI gratuiti della regione non sono disponibili. A questo problema se ne aggiunge un altro legato ai forti assembramenti di persone fuori dagli esercizi sanitari i quali si vedono obbligati a consegnare le poche mascherine assunte in carico in massimo un'ora. Il problema è che dovrebbero essere distribuite in numero maggiore in modo tale da poter soddisfare la richiesta che c'è, che è molta, anche perché c'è la corsa all'accaparramento in questo momento. Invece se il cittadino sapesse che le mascherine le trova sempre durante tutto l'arco della giornata questo problema sarebbe diluito. Difficile capire di chi siano le responsabilità ma di sicuro buonsenso e DPCM risultano inapplicati. Noi ci auguriamo che la regione voglia prendere in considerazione un'idea un pochino più migliore e pragmatica rispetto a questo esploiare che c'è stato. Un'idea molto fine è stata svolta dal comune e dal nostro sindaco Antonio Francesco Vivarelli Colonna distribuendo casa per casa a secondo due o tre mascherine, quindi evitando assembramenti e quindi una cosa normale.